Alcune città sono troppo piccole per due persone armate di una Remington 1858. Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad, sparo e so cose sullo sparare. Questa che abbiamo oggi è una stupenda replica della Pietta di una pistola storica, di una rivoltella storica. La Remington 1858 è stata una popolarissima concorrenza alla Colt, è stata la seconda rivoltella più usata nella guerra civile americana. È una rivoltella abbondantemente utilizzata anche nel vecchio West. Nonostante negli anni 70 e dell'800 appariranno conversioni a cartuccia, anche questa che è ad avancarica, non dà bene, rimarrà estremamente popolare. Spariamo cinque colpi, innanzitutto la rivoltella ne ha sei, ma per portarla in fontina è meglio caricarla che a cinque colpi. Poi vediamone la storia e la meccanica. Ok, i colpi erano finiti, giustamente ne contavo se io. Spostiamo la telecamera, diamo un'occhietta da vicino soprattutto alla storia di un'azienda importante come la Remington e a quest'arma. Poi ovviamente la vediamo in dettaglio come funziona il suo caricamento e poi la proviamo ancora qui al poligono. La storia della Remington 1858 ovviamente ha inizio con l'azienda, la Remington Arms Company, e il suo fondatore, Eliphalet Remington. Eliphalet Remington nasce nel 1793 in Connecticut, abbastanza giovane e segue nelle orme del padre con la famiglia nel trasferirsi nella cosietta Mohawk Valley. In quella valle infatti vi era un grosso boom dell'economia. Il fiume Mohawk infatti raggiunge New York da un lato e dall'altro lato è molto vicino ai grandi laghi americani. Con la costruzione del canale dell'Iri che collegherà proprio il lago Iri con il fiume Mohawk, si aprirà la strada alla colonizzazione industriale, potremmo dire, di quella che diventerà la Rust Belt americana, quella zona appunto intorno ai grandi laghi americani famosa per l'industria del ferro e dell'acciaio. Ed essendo Eliphalet padre, e quindi anche figlio, dei fabbri, lì vi era parecchio lavoro e parecchia clientela. Verso la fine del Settecento o inizio dell'Ottocento costruiscono una casa che ancora oggi tra l'altro è esistente ed è un monumento negli Stati Uniti. Vicino a questa casa scorre un fiume in un piccolo canyon naturale, per cui vi è parecchia corrente ed è proprio lì che Eliphalet padre crea una fonderia. Infatti in un'epoca dove non vi era ancora l'elettricità e si stava ancora soltanto diffondendo il motore a vapore, l'accesso a un'energia era dato dall'acqua e l'acqua serviva ad alimentare le grosse pompe meccaniche che servivano appunto alle fonderie, ai fabbri, per lavorare i metalli. Ci sono due versioni della storia di come Eliphalet Remington si fosse dato alla costruzione di armi da fuoco. La prima versione vuole che Eliphalet si fosse costruito un'arma, o meglio una canna specificamente, perché non aveva i soldi per comprare un fucile. La seconda versione invece ci racconta che lui vuole vedere se sarebbe stato più bravo lui a fare un fucile rispetto agli altri fabbri o gli altri fucili di produzione industriale. In ogni caso Eliphalet Remington crea un'arma, un prototipo potremmo dire, con il quale partecipa da totale nessuno a una gara di tiro nello stato di New York, arrivando addirittura secondo. La gente è molto impressionata dalle sue abilità nel tiro, ma anche dall'arma che gli ha permesso di fare questo piazzamento. Contate era una persona sconosciuta che non aveva mai partecipato a manifestazioni di questo tipo. Nel 1816 si espande quindi il business di famiglia con la fondazione ufficiale della Remington's Arm Company. Col passare degli anni anche i figli di Eliphalet Remington si uniranno a lui e diventerà la Eliphalet Remington & Sons. E si distinzia in particolare per la produzione di canne e armi lunghe di altissima qualità. La stragrande maggioranza degli armaioli e armieri indipendenti di quelle zone infatti andava a comprare proprio le canne della Remington perché loro erano in realtà l'unica azienda in quelle zone che era in grado di produrre canne di alta qualità. Ma era tutta quanta produzione ancora per il mercato civile. Nel 1848 la Remington acquisterà una serie di macchinari per la produzione del cosiddetto Mississippi Rifle, una delle prime armi rigate in dotazione agli Stati Uniti. È proprio per continuare la propria espansione in questa direzione marziale che nel 1858 la Remington compra un brevetto. Siamo nel grosso boom delle invenzioni per quanto riguardano le rivoltelle. La Colt in questo momento domina totalmente il mercato ma la Colt non ha sempre idee ottime al 100%. In particolare una grossa critica fatta alla rivoltella della Colt è che primo è difficile rimuovere il tamburo. Secondo la Colt è una cosiddetta open top ovvero sopra, sopra il tamburo non c'è alcun tipo di materiale per cui l'arma non aveva particolare rigidità strutturale. Un brevetto di un certo Ford Ice Bills cambia queste cose, questo brevetto viene acquistato dalla Remington e messo in produzione. In questa produzione c'è una serie di varianti e sottomodelli collezionisti, qui apprezzano le piccole differenze che ci sono tra i vari modelli di quella che viene chiamata un po' retroattivamente, la Remington 1858 New Army. C'è chi infatti la chiama un po' più correttamente la Remington Beals dal nome del vero inventore di quest'arma. Quest'arma vedrà marginale impiego all'inizio della guerra civile americana, quando la stragrande maggioranza delle rivoltelle in usazione erano ancora Colt. Ma, fortuna per la Remington, la fabbrica della Colt è un incendio nel 1864, per cui l'Unione acquisterà giganteschi quantitativi di queste rivoltelle, piazzeranno enormi ordini per queste rivoltelle, tanto che diventerà la seconda rivoltella più utilizzata durante la guerra civile americana. Le gigantesche quantità prodotte faranno anche sì che l'arma diventerà estremamente popolare dopo la guerra civile americana, sia nella sua versione ad avancarica, che tra l'altro vediamo oggi, ma anche nella sua versione con varie conversioni a retrocarica. Una al Remington 1858 più famosa in assoluto, infatti è quella del famoso Buffalo Bill Cody, che ne usò una fino al 1903, a sottolineare anche la longevità di un'arma del genere e la sua qualità costruttiva. Spostiamo quindi la telecamera, diamo un'occhiata da vicino a come è fatta, e poi ovviamente la proviamo. Diamo un'occhiata a questa stupenda riproduzione della pietta della Remington 1858, la cosiddetta New Model Army. Abbiamo a che fare con una rivoltella ad avancarica in azione singola, che è una rivoltella ad avancarica, la notiamo dal fatto che il tamburo qui è aperto appunto per permettere il caricamento, ovviamente il fuoco, ma sul retro come vedete abbiamo spazi per i luminelli, non c'è modo di caricare il tamburo da dietro. Per il resto il caricamento di quest'arma lo vedremo a breve, un pochino meglio durante la prova a fuoco. Sulla canna abbiamo le prime scritte che ci informano che è black powder only, questa è una scritta abbastanza moderna, solo polvere nera. Dall'altro lato invece abbiamo l'identificazione del produttore, fra la ripietta made in Italy. I comandi dell'arma, beh, non ce ne sono moltissimi alla fine come comandi in senso stretto. Abbiamo ovviamente il cane, che deve essere armato ogni volta per sparare, infatti è un'arma in azione singola, in questo momento se premiamo il grilletto non succede assolutamente niente. Abbiamo una prima posizione di mezza monta, posizione molto importante per permettere il caricamento, perché in questa posizione il tamburo dell'arma è libero di ruotare, ma premendo il grilletto non succede niente, è anche una posizione potremmo dire tra virgolette di sicura. Per andare a fare fuoco dovremo tirare il cane. Qui nella monta del cane il tamburo diventa bloccato, viene bloccato da quello che viene chiamato il cylinder stop, che è una protrusione che esce fuori, collegata al grilletto, che ora è messo in posizione, e premendo il grilletto possiamo mandare il cane in avanti. Ovviamente questo colpirà l'innesco a percussione, facendo fuoco dal tamburo, lo vedete, dalla camera che è allineata in quel momento al tamburo. Un altro comando che ci serve per azionare l'arma è questa leva. Questa leva la possiamo aprire, il che permetterà il caricamento. Questo serve a fare leva all'interno delle camere del tamburo per permettere il caricamento. Un'altra cosa che vedremo a brevissimo molto bene, dimostrando appunto al poligono quest'arma. L'altro lato in realtà è spoglio come quello sinistro, non presenta delle caratteristiche particolari, quindi io direi una cosa in questo momento. Smontiamo e vediamo com'è fatta, anche perché nota bene, questa sequenza la stiamo registrando dopo aver fatto fuoco. Questa è un'arma a polvere nera. Se non lo sapete, le armi a polvere nera, se non le pulite, diventeranno molto rapidamente ruggine, quindi in realtà dobbiamo smontarla tutta quanta con il proprietario per andarla a pulire. Come possiamo fare? Possiamo mettere in questo momento il cane a mezza monta, possiamo staccare la leva di caricamento e tirare fuori con decisione l'asse centrale che tiene il tamburo. Il tamburo che vorrà uscire fuori. Lo vediamo molto bene nelle sue sei camere qui da davanti, l'asse centrale. Guardate già come mi sta sporcando le mani. Qui vediamo molto bene le posizioni per i luminelli e percussione e quella che è una ruota dentata che viene mossa ogni volta dalla hand, dalla mano cosiddetta, dal meccanismo di scatto che quando si arma il cane, è un elemento che va su insieme al cane e fa ruotare il tamburo stesso. Ora, dobbiamo iniziare purtroppo a utilizzare delle viti in questo momento. Possiamo svitare questa vite qui presente, il che ci darà accesso a questo sistema che abbiamo visto qui del caricamento dell'arma e dell'asse centrale. ecco qui la vite che viene rimossa e tutto questo, l'asse centrale che tiene il tamburo e questa leva di caricamento in questo momento escono fuori. Possiamo in questo momento rimuovere la vite che tiene il ponticello del grilletto per avere accesso al resto del meccanismo di scatto. rimossa la piccola vite, la mettiamo da un'altra parte giusto per non confonderci. Possiamo così rimuovere il ponticello del grilletto fatto in ottone. In questo momento possiamo in questo momento possiamo levare questa vite che tiene una molla al suo interno che dà forza sia al grilletto sia al cylinder stop ovvero l'elemento, il pirulino chiamiamolo che va a dare, a bloccare il tamburo nella sua posizione. Delicatamente svitiamo. Voi a casa non lo vedete ma io in questo momento ho quattro persone che mi guardano. Mi sento tipo un chirurgo guardando la famiglia che sta operando la nonna per salvarla all'ultimo momento. Rimossa questa vite possiamo sollevare via la doppia molla come vedete possiamo ora anche rimuovere la vite che è presente sul fianco che tiene il grilletto e che ci darà accesso al meccanismo di scatto di certo all'epoca non facevano le armi pensate per lo smontaggio rapido per caricare versiamo quindi la polvere successivamente nelle varie camere del tambura poi in ognuna delle camere posizioneremo una borra sulla borra poi inseriamo la palla le palle grazie all'ausilio della leva di caricamento quando si è pronti non ci resta che innescare e si può andare a fare fuoco non ci resta che innescare 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 guarda è insieme delle salle Grazie a tutti. 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 Anzi, diciamo chiaramente, in questo momento io sono la legge e voi siete colpevoli di non aver lasciato un commento. Fatelo immediatamente. Fallo! Noi come al solito ci vediamo alla prossima.